Allora, posso spiegare? Innanzitutto, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video con dei nuovi ulteriori capelli perché chi mi seguiva prima sul canale dei vlog, che vi linko qua sotto, lo trovate sempre avrete visto che avevo fatto un cambio, cioè avevo proprio schiarito le radici e avevo fatto un semicolore, diciamo, cioè avevo fatto le punte rosa però un rosa confetto, un rosa molto chiaro, pastello e sulla base avevo fatto tipo un lilla ecco, questa volta sono riandata e ho fatto questo colore cioè in realtà io vi ho detto fammi un rosa che però possa durarmi quindi non vi preoccupate perché questo colore si andrà a schiarire adesso contate che è neon, cioè è rosa neon io ho appena fatti, cioè sono uscita dal parrucchiere tipo due ore fa qualcosa del genere e vabbè naturalmente ho fatto fare i boccoli e tutte le cose così non vi aspettate di vederli sempre in questo stato comunque sia sono molto felice e volevo fare questo video perché tanti ragazzi mi hanno chiesto come hanno fatto a farti i capelli in questo modo che colori usano prodotti eccetera e quindi se volete sapere meglio su cose tecniche eccetera vi invito ad andare a vedere il vlog che appunto sta sul canale dei vlog altrimenti cosa ancora migliore perché magari non lo so siete di Roma volete andare, questo parrucchiere sta zona di Viale Marconi all'inizio proprio di Viale Marconi vi lascio qua sotto tutte le loro informazioni potete scriverli su Facebook, su Instagram potete chiamarli, risponderanno subito poi sono troppo fighi, cioè sono proprio fighi entrate là dentro che il negozio è figo di per sé poi vedete tutte le persone che ci lavorano compresa la mia amica Giordana e rimanete così, cioè io giuro che ho trovato il mio parrucchiere perché sono proprio bravi a parte proprio tecnicamente a capire quello che vuoi ve lo stra 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 consiglio quindi se appunto volete andarli a fare non sapete dove andare eccetera io ve lo consiglio e potete chiedere tutto a loro naturalmente se chiedete qualcosa a me e io non lo so cioè insomma chiedete a loro ripeto perché io non sono proprio del settore al 100% anzi diciamo neanche al 10% arrivo dai comunque la partiamo dalle origini io partivo praticamente che avevo la radice del mio colore che adesso è questa che vedete c'è un po' di ricrescita che è un biondo senere e le punte erano della precedente decolorazione quindi praticamente avevo una ricrescita fino a qua un po' sfumata però avevo le punte bionde se andate a vedere i vecchi video ma neanche tanto tempo fa più o meno tipo 2 massimo 3 mesi fa vedrete come avevo i capelli prima ecco il fatto è che io sono sempre stata molto astratta molto particolare mi sono sempre piaciute queste cose un po' strane infatti anche nei tatuaggi se non mi conoscete io ho molti tatuaggi colorati mi piace proprio l'arte sul corpo in generale ho provato a fare i capelli totalmente colorati questa è la prima volta che li faccio proprio tutti uniformemente colorati perché comunque negli anni precedenti ma parlo anche di 4-5 anni fa facevo le punte da sola mi compravo i crazy color su ebay e facevo le punte le ho fatte viola le ho fatte bordeaux le ho fatte rosa le ho fatte verdi e il verde ve lo dico per esperienza non si toglie neanche se vi tagliate i capelli cioè continuo a spuntarmi fuori verde comunque no a parte gli scherzi è uno cioè il blu proprio il pigmento blu che è contenuto anche nel verde è uno dei più difficili da togliere vi giuro è proprio infatti anche Giordana adesso sta combattendo con questo verde però se li vuole fa viola piccolo spoiler comunque a parte questo io appunto l'altra volta sono andata e gli ho detto guarda io voglio farli vorrei farli oddio voglio vorrei farli biondo ghiaccio e infatti è quello che mi hanno dato eccetera eccetera però poi mi sono detta ma perché limitarsi al biondo ghiaccio e qui nel vlog si vede quindi gli ho detto fammi le punte rosa e poi lui mi ha proposto di comunque sfumarlo con la base un pochino lilla così da freddare sempre più il colore quindi io l'ho fatto tutto apposto erano fighissimi vi giuro e solo che col fatto che le punte erano rosa molto molto chiaro e anche la base non era di questo grande scuro naturalmente con tipo tre lavaggi o massimo quattro tutto il colore il pigmento sopra si era tolto ero rimasta bionda poi come avete visto e se andate penso anche solo nel video precedente quindi oggi io ero partita in realtà che era un po' titubante nel senso non sapevo se farli rosa o se mantenere il biondo ghiaccio che avevo prima quindi andarlo solamente a ritonalizzare cioè fare lo shampoo antigiallo fare un bagno di colore e tutte queste cose poi mi sono detta ilà senti si vive una volta sola ciao a 18 anni adesso cioè non penso a 40 anni ti metti ti svegli e ti vuoi fare rosa quindi fallo adesso e ciao quindi sono entrata così via fatto Giordana mi passava il colore poi dopo più o meno una ventina di minuti mi hanno sciocco di capelli con l'acqua tiepida perché in questo modo si vanno a chiudere le squame del capello il pigmento non esce rimane bello vibrante come in questo caso e niente poi vabbè Giordana sempre la mia parrucchiera di fiducia mi ha fatto la piega e io ho detto fammi i boccoli così cambiamo un attimo e questo fondamentalmente è quello che posso spiegarvi io e quello che penso comunque visto che io non l'ho detto piccola parentesi l'altra volta che sono andata a fare il biondo ghiaccio mi hanno fatto una deco penso a 20 volumi non vorrei dire una minchiata pazzesca però a 20 volumi e me ne hanno fatto una soltanto e me l'hanno lasciata in posa penso una quarantina di minuti una cosa del genere non mi sono rovinate i capelli di una virgola cioè io ho dei capelli fortunatamente molto tosti molto duri e che crescono anche molto velocemente quindi non ho mai avuto problemi sotto questo campo però non si sono rovinati di una virgola e sono stati trattati benissimo poi naturalmente stavano sempre a controllare perché mi hanno fatto la decolorazione sulle lunghezze e quella cutanea che è meno aggressiva naturalmente perché il problema delle decolorazioni è la base cioè se vai a bruciare a testa te bruci tutta la vita te bruci il cervello te bruci tutto quindi bisogna stare molto attenti anche da chi si va per fare queste cose per favore ragazze state sempre molto molto attente comunque io volevo ringraziare per questi fantastici capelli tutti quelli che hanno contribuito Giordana Simone Francesco Viviana che Francesco e Viviana sono i proprietari di questo posto sono due figli pazzeschi cioè sono proprio molto yo-yo quindi li saluto se stanno guardando questo video li ringrazio perché sono una cosa meravigliosa in realtà oggi in negozio ero un po' perplessa quando mi sono vista per la prima volta allo specchio ho detto oh madre santa ho fatto una minchiata però poi andando in giro a parte che io odio essere osservata dalla gente cioè mi da proprio urto stare al centro dell'attenzione e però con questi capelli cosa vuoi pretendere e quindi in metro mi guardavano tutti ero tipo ok Laria hai deciso di farli adesso basta cioè nel senso hai deciso di farli e mo te tieni sta cosa però vabbè solo un fatto di abituarmici insomma poi mi hanno fatto un sacco di foto ai capelli ve li faccio vedere un attimo eccoli qui che poi adesso con sta luce super sparaflushesa sembrano proprio neon però in realtà sono un po' più smorsati e per farli questo è almeno quello che ho sentito mentre ero al lavaggio mi hanno aggiunto una punta di rosso al colore rosa praticamente quindi non lo so se siete curiosi o magari volete andarli a fare ripeto trovate tutte le info sotto le info box e anche se andate sulla mia pagina di instagram su snapchat vi do tutte le informazioni che volete io ringrazio ancora giuis per questi capelli favolosi on flick e spero vi piacciono cioè scrivetemi qua sotto come ci sto come mi ci vedete io mi ci vedo in realtà molto molto bene perché avendo la pelle così chiara secondo me vanno un po' ad colorire illuminare il tutto vi mando un grosso grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao